Non il miele, non l'alcol, ma l'aceto. E questo è il solvente migliore capace di preservare la maggiore quantità di vitamina C presente nella frutta. Ecco che quindi l'acetolito di cinorrodi sarà realmente un aiuto per il nostro benessere e per la nostra bellezza. Ecco la nostra ricetta. 25 grammi di cinorrodi essiccati, 250 grammi di aceto. E adesso arriva il bello. Lontano dalla luce diretta del sole, li taglio a metà ed elimino i semini e i peletti che sono al suo interno. Non dovrà essere un lavoro certosino, perché tanto alla fine della macerazione andrò a filtrare perfettamente. Ora il passaggio cruciale. Lì è sicco a 60 gradi. Stendo i cinorrodi ben distanziati gli uni dagli altri e avvio immediatamente il programma adeguato dell'essiccatore. Ci vorranno circa 4 ore per avere dei cinorrodi ben secchetti e pronti per essere messi sotto aceto. Io ho scelto l'aceto di mele non pastorizzato. Ora attenderò 15 giorni lasciando il vasetto al buio e al fresco. Poi filtrerò con un filtro fittissimo, un bicchiere di acqua appena tiepida, un cucchiaino di miele e un cucchiaio di questo aceto. Mi darà il giusto risveglio ogni mattina. Ma se vuoi saperne di più, puoi trovare sul nostro sito www.custodidierbe.it il nostro approfondimento sulla vitamina C, nonché la ricetta per intero. Ciao, al prossimo video!